Noi non stiamo discutendo di ritirare la delegazione al governo, noi stiamo discutendo di vedere i nostri ministri impegnati in quelle che sono le politiche di Forza Italia e del centrodestra e la salvaguardia di Silvio Berlusconi. Non possiamo accettare che il PD con un voto politico e non di regolamento lo escluda definitivamente dalla scena politica.